Lasciate a casa l'auto perché il primo giugno torna la domenica ecologica. L'invito arriva dall'assessore all'ambiente Tommaso Sodano, che ha ricordato il nuovo piano traffico varato dall'amministrazione comunale. Sono sospese fino ad ottobre le limitazioni infrasettimanali e passano a due le domeniche ecologiche, previste la prima e la terza di ogni mese. Il primo appello ai cittadini è di lasciare la macchina a casa e di partecipare alle tante iniziative che ci sono in città o andare liberamente per le strade della città che saranno libere dalle auto per due domeniche al mese. Quindi è un appuntamento, speriamo che diventi un'abitudine positiva dei napoletani e questo ci consente di contrastare anche i fenomeni dell'inquinamento atmosferico. Domenica dunque non si circola su tutto il territorio dalle 9.30 alle 13. Il prossimo blocco è previsto poi il 15 giugno, ma numerose sono le iniziative organizzate nelle diverse municipalità per vivere a piedi la città. Saranno impiegati 200 agenti della Polizia Municipale e una quarantina di volontari della protezione civile. Ci sono tante iniziative organizzate dal basso, da tante associazioni, dai tanti singoli anche cittadini che hanno proposto iniziative un po' in tutti i quartieri. Quindi diciamo il programma è sul sito del comune e si partecipi e si viva questa domenica come un'opportunità e non come una restrizione.